Com'era? Com'era la regola dei 3 terzi? Vai, Nixos! Allora, ragazzi, io... niente, la devo leggere, ragazzi. Bomba atomica! Ho letto qualcosina così, la scopriamo insieme. Presentazione della nuova esperienza online per R-Factor 2. Ovviamente è una traduzione che era unica che capiremo lo stesso. Potenziata da Rise Control, cari membri della comunità di R-Factor 2, siamo entusiasti di condividere un nuovo capitolo del nostro percorso di gare online su R-Factor 2. Ragazzi, con le mani Ultimate, molti di noi, anch'io, avevo detto finito, R-Factor 2 è finito. E invece, ragazzi, bomba atomica! Oggi lanciamo una beta pubblica con release candidate del nostro sistema rinnovato online di R-Factor 2, alimentato dalla tecnologia Rise Control. Speriamo che questa evoluzione di come funziona l'online per R-Factor 2 vi dia un accesso maggiore per gareggiare contro altri utenti online. E sì, perché il problema da 10-15 anni è proprio questo online. Porti un match-metting basato sulle abilità per trovare gare migliori e assicuri che i piloti siano incentivati a giocare in modo leale contro i loro avversari. È arrivato, ragazzi, mamma mia! E come parte di questo nuovo programma regaliamo la recentemente aggiornata BMW M2 CS a tutti gli utenti registrati nel nuovo sistema. Ragazzi, è fantastica sta cosa! Un nuovo ranking, match-making! Ma vi rendete conto, ragazzi? E non è finita! Stanno migliorando anche l'esperienza per quanto riguarda i possessori di schede video AMD. Ci sono dei problemi. Che cos'è questo programma beta online e come posso partecipare? Importante sottolineare che questo sistema è stato costruito da zero nell'ultimo anno quindi abbiamo bisogno di testarlo accuratamente con piloti e pazienti che capiscono che potrebbero esserci alcuni contrattemmi lungo la strada. Ovviamente siamo noi nati per chi nati con RFactor 2 pazienti che ci sono problemi legati, quindi tranquilli Studio 397. Per partecipare basta fare clic col tasto destro su RFactor 2 sulla vostra lista delle librerie su Steam e quindi fare proprietà beta, selezionare release candidate. Ragazzi, sono emozionato! Quindi, release candidate dalla lista e la nuova versione verrà scaricata automaticamente. Ecco le nuove funzionalità! Tenetevi forte! Sistema classifica. Safety ranking SR rappresenta la vostra etichetta in pista. Iniziate con il bronzo e salite fino al platino dimostrando un comportamento di guida responsabile. Driver rank DR basato sulle vostre abilità di guida partendo dal bronzo competete e superate gli altri per arrivare al platino. Il vostro driver rank determina in quale gruppo caraggerete se ci sono più piloti registrati che possono essere accolti in una sola gara. Notate il vostro drive rank non può superare il vostro SR quindi assicuratevi di guidare in modo sicuro. Che spettacolare sta cosa! Affinché una gara conti per la vostra classifica è necessario che siano registrati almeno 5 piloti per quella sezione. Quindi fate gare da 5 piloti minimo ragazzi per far salire il vostro drive. Ovviamente assomiglia tantissimo a quello che è già presentato però su Rf2 ragazzi perché la bomba sta per arrivare. Gare giornaliere. Queste gare saranno aggiornate ogni settimana con una varietà di contenuti. All'interno delle gare giornaliere ci sono diverse categorie da sbloccare in base al vostro safety rating. Le gare giornaliere sono progettate per essere divertenti, facili da entrare e relativamente brevi. Hanno anche un impatto minimo sul vostro driver rank quindi potete gareggiare senza temere di perdere troppo DR ma assicuratevi di guidare in modo sicuro. La seconda volta che lo dicono ragazzi quindi occhio a come state in pista. Per aiutarvi organizziamo anche sessioni di allenamento multiplayer per la prossima gara. Potrete così vedere gli altri prodotti e imparare gli uni dagli altri e migliorare senza timore per il vostro SRDR. Quindi anche dei server ragazzi a disposizione per allenamento senza avere il rischio di perdere il proprio ranking. Ci sono tre categorie per le gare giornaliere. Principi anti, aperte a tutti e attualmente ogni ora. Queste saranno sempre gratuite. Intermedie, aperte a silver safety ranking attualmente ogni due ore. Quello sempre gratuito devo vedere. Avanzate, aperte a gold safety rank e attualmente ogni tre ore. Eventi speciali. Questi eventi si svolgeranno settimanalmente saranno in genere un po' più lunghi e offriranno maggiori ricompensi in termini di drive rank. A volte rifletteranno eventi della vita reale ma per lo più saranno ciò che il nostro team di amministratori pensa che possiate apprezzare. Ma mi piace già. Le sessioni di allenamento si svolgono durante la settimana e c'è una classifica in cui i vostri tempi di allenamento saranno inclusi. Queste gare presentano anche le condizioni meteorologiche reali utilizzando dati API per creare la sezione in modo che corrispondano alla parte del mondo in cui si svolge l'evento. Profilo del pilota, risultati e statistiche. Ragazzi, che bomba! Tutte le gare del vostro sistema AirFactor2 online sono registrate nel vostro profilo di pilota. Qui potrete vedere dove avete terminato, l'effetto sulle vostre classifiche e le statistiche per i vostri sforzi online. Per accedervi, cliccate sul vostro nome nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Potete vedere i vostri risultati, le statistiche, il progresso e cambiare le vostre preferenze di marketing sulla schermata del profilo cliccando sul vostro nome host dei server. Sappiamo che ospitare il proprio server è stato a volte un po' complicato. Un po' complicato! Ci vuole una laurea, ragazzi! E attraverso la nostra opzione Hosted Server potete utilizzare la nostra interfaccia in-game e l'infrastruttura AWS. Potete acquistare pacchetti di minuti server da utilizzare. Funziona come iRacing qua. 1 ora 1 euro, 6 ore 6 euro, 12 ore 9 euro, 24 ore 13 euro. Questi prezzi. Fate attenzione che i server impiegheranno del tempo a partire a seconda del tipo di contenuto che avete selezionato. Di solito ci vogliono circa 6 minuti, ma potrebbero essere anche 12 per i circuiti come il Nord Brewing. I server della comunità funzionano ancora come al solito, ma ora sono disponibili in online server, server della comunità. Cioè, ragazzi, la bomba assoluta. Quindi a questo punto io posso noleggiare il server. Ok. Cioè, ragazzi, che bomba atomica! Rise Control, praticamente, sono arrivati gli eventi. Ecco la beta che in questi mesi è stata sviluppata. Era proprio per presentare questo servizio. Ovviamente sento già l'eco di Ah, ma bisogna pagare. Ma a questo punto me ne vado su R-Racing. Ragazzi, R-Factor 2 si è messa al passo con i tempi. Quindi dà la possibilità di affittare i server. Per chi non lo sapesse, per avere dei server su R-Factor 2 che siano di una certa consistenza, di una certa qualità, o affitti un server tu e paghi 50 euro al mese perché ci devi accedere al server come... cioè, devi avere un accesso remoto. Non è come tipo i game server. Quindi sono minimo 50 euro e in più devi saper configurare, fare tutti gli RCFMP, devi saper fare le mod, eccetera. Cioè, bisogna avere conoscenza di R-Factor 2 e in modo profondo. Cioè, devi avere esperienze. Qui danno la possibilità. E sono un po' più cari di iRacing, a dire il vero. Perché un'ora su iRacing sono 50 centesimi di dollaro e più ne prendi e più si abbassa il prezzo. Ma qui non stiamo facendo il paragone, ma stiamo parlando comunque di una bomba atomica che dà la possibilità di avere degli eventi finalmente online accessibili, ragazzi. Quindi adesso, quando tu accedi a R-Factor 2, non devi conoscere le comunità. Hai degli eventi ufficiali, puoi partecipare, c'è un ranking, c'è un sistema di safety ranking, ragazzi, adesso. Cioè, adesso tu entri nella lobby e c'hai la spada di Namocle sulla testa e quindi devi fare attenzione, devi guidare safe. E questa è la figata. E in più mantengono anche le comunità che hanno i loro server. Bomba atomica. Bravi, ragazzi, di Studio 397, ragazzi. Nella speranza che questa news, anche se l'ho letta, ragazzi, ma chi se ne frega, vi sia piaciuto, lasciate un pollice in su. Ovviamente lasciate un commento e ditemi cosa ne hai pensato. Ovviamente questo sarà da studiare. Adesso mi ci butto a capofitto e ditemi cosa ne hai pensato. iscrivetevi al canale. Da Fabrice è tutto. Un abbraccio. Io vado su Refactor 2. Ciao.